Cari amici di EmoFugitalia, benvenuti finalmente in questo nuovo video. In questo video vi faccio vedere un effetto che si può creare con un testo e con un filmato, utilizzando la tecnica che è stata messa a disposizione, più che altro non è una tecnica ma uno strumento, la sfumatura tra i due livelli che abbiamo già visto nei tutorial precedenti. Andiamo quindi a fondere un testo con un filmato, ma questo solo dopo la sigla. Ok, ragazzi andiamo a vedere come creare questo effettino molto simpatico del nostro testo con questa funzione delle sfumature tra i livelli, i livelli. Allora, prima cosa dobbiamo fare, creiamo un testo con il nostro tasto più, ok, e ci scriviamo qualcosa. Allora, ci scriviamo qualcosa, ci scriviamo... Allora, spero di aver scritto bene, Luma Fusion, ok. Una cosa da tener conto, quando ingrandiamo il testo, ma è stato già fatto in un altro tutorial, è quella di stare attenti al... quando volete fare lo scrolling di un testo, o di un titolo, dovete stare attenti che se voi ingrandite il testo così, quando andate nella parte animazione, vedete che quella parte che vedete voi è questa, vedete? Non c'è il resto del testo, quindi dovete stare attenti che il testo, quello che avete scritto, il titolo sia in... prendete in tutto il frame del video, ok? In questa maniera, così. Allora, andiamo... io ho già fatto un titolo, Allora, andiamo a fare questo, Luma Fusion, lo prendiamo così, è il Samsung che si è aggiornato, niente paura, prendiamo questo e andiamo ora a creare, a... non creare, ma a inserire un video in sovraimpressione. Allora, prendiamo il solito, con le bollicine mi piacciono, queste qua. Prendiamo queste qua e ce la schiazziamo sopra. Questo qua ovviamente deve essere lungo quanto, ok? Tutto il nostro, ok? Facciamo così, taglio e via. Andiamo due volte, due cliccate sul nostro filmato e andiamo in fondo, nella parte miscelazione e mettiamo la voce, questa qui. Guardate un po' che è successo? Mh? Avete visto? Ok? Già abbiamo visto il risultato. Adesso però torniamo nella parte del testo. Torniamo nel nostro testo. Perché? Intanto abbiamo notato che è uscito dal seminario, vedete? Ok, impiccialliamolo un po', ok? E però lo ingrandiamo dalla parte delle animazioni. Lo mettiamo più grande che vogliamo, quanto grande vogliamo, ok? Se non vi basta questo ingrandimento, col piccito zoom potete ingrandirlo. Non mi piace tanto questo testo. Adesso lo vado a cambiare. Cambiamo un po' il titolo. Ecco qua, questo qua è perfetto. Ok. Io lo farò da destra verso sinistra, quindi prendo il potenzione della X e lo allontano verso destra. Però vedete, più qua non va, ovviamente non va. Lo prendete col dito con la penna e lo spostate, stando attenti a tenere un po' la simmetria, centrato, oppure se volete metterlo in alto, come desiderate. A questo punto andiamo all'inizio dei frame e mettiamo il primo key. Andiamo alla fine e spostiamo tutto verso sinistra. Anche qua, stando attenti a non stare tanto in alto o in basso, perché sennò si vedrebbe il testo che sale o scende. Ok. Andiamo un po' a vedere cosa è successo. Ragazzi, un effetto con un euro. Praticamente non abbiamo fatto niente, ma abbiamo praticamente visto il risultato. Ma adesso vi dimostro ancora di più un'altra cosa. Se io vado, guardate cosa mi sono inventato, ma non ho scoperto niente, io non scopro mai niente. Io praticamente, come dire, sperimento, poi alla fine metto a disposizione. Prendiamo un altro, il risultato filmatino, questo qua, e ci mettiamo un fade tra una cosa e l'altra. Guardate un po' che cambia. Aspettate. Allora, tagliamo, ovviamente. E dobbiamo mettere lo stesso effetto. Quindi cosa facciamo? Lo copiamo, eh? Lo copiamo, copia e incolla. Oh, andiamo a vedere a schermo grosso, andiamo a vedere a schermo grosso. Un'altra cosa che possiamo fare è questa, dare un movimento anche alla clip, a questo sfondo che c'è dietro adesso. Come facciamo? Molto semplice, sempre con le animazioni. Andiamo all'inizio della clip, diamo un segno a più, ovviamente dovete selezionare il livello della clip che volete muovere, ci spostiamo questa volta verso la sinistra, però prima di tutto dobbiamo ingrandire un po' la nostra clip. Andiamo verso sinistra, sinistra verso destra, ok? Ci posizioniamo dopo alla fine della clip e la muoviamo ovviamente verso destra. Fatto questo, torniamo a vedere cosa è successo. Avete visto? Anche la sfonda si muove, dentro il filmato c'è una voce e un rumore. Avete visto che anche il filmato dietro si muove. Ho scoperto questa bug, vi segnalo, adesso magari non succederà più. Se io vado a creare un'animazione, vedete, se io adesso metto indietro, rifaccio la stessa cosa, io ovviamente ho fermato il filmato, faccio più, ingrandisco, sposto, vado avanti, vedete adesso si è sposto io, vedete che si sposta solamente il rettangolo ma l'immagine resta ferma. Questa è una bug, speriamo che la mettano al posto al più presto. Bene amici, avete visto com'è facile, tra virgolette sempre, con dovute cautele, creare un effetto tra un testo e un fondo, un filmato. Avete visto anche la risolvenza tra uno e l'altro e il movimento, una cosa molto carina. A voi la possibilità di sperimentare, ovviamente mandatemi magari i vostri filmati, le vostre prove, io le vedrò molto volentieri e con questo vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.